ciao ragazzi se volete giocare con lo yoyo ci sono delle cose che dovete sapere vi serve uno yoyo e vi serve una stringa come questa per attaccare lo yoyo alla stringa dovete aprire il cappio in questo modo svitando il cordino così e infilarlo in questo modo nello yoyo lasciandolo il cordino va a posto così per arrotolare il filo intorno allo yoyo non potete farlo in questo modo perché dentro essendoci il cuscinetto girereste all'infinito quindi dovete attaccare pinzare la cordina in questo modo da una parte e girarlo così quando avete fatto qualche giro potete lasciare l'asola e lo yoyo si arrotola facilmente per attaccare la cordina al dito dovete aprirla in questo modo e fare una sorta di cappio così infilare il dito medio in questo modo e tirarlo ok semplice per lanciare lo yoyo non si lancia in questo modo no questo è farlo ondeggiare è una cosa da sfigati non si fa per lanciare lo yoyo dovete avere il cordino che passa sopra vedete in questo modo in questo modo lo yoyo non funziona il cordino deve passare sopra dovete fare il muscolo in questo modo e lanciarlo ok semplicissimo fate il muscolo e lo lanciate per richiamarlo basta un colpettino della della mano e torna su questo è tutto alla prossima puntata